I progetti già finanziati, i 5 grandi progetti, Banco Periferie, Waterford, Lungomare Nord, Piazza Darmi, riqualificazione del mercato, Piazza Pertini, mercato delle erbe, continuare nella manutenzione della città alla grande, mobilità e trasporto pubblico rilancio alla grande, piste ciclabili, ma non solo, mobilità sostenibile, spendendo bene i soldi che abbiamo conquistato in questi 5 anni. Un messaggio agli anconetani. Ancora così, fiducia nel futuro, i problemi si possono risolvere, li stiamo risolvendo insieme, avanti così.